In questo video vediamo le 5 migliori tende da campeggio 4 posti in vendita online. Prima di iniziare con il video ti ricordo che trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Iniziamo! Numero 5 Al quinto posto troviamo Just Camp. Questa è la versione moderna della classica tenda a cupola. Grazie alla ventilazione sul tetto, può fornire aria fresca ed essere ventilata a sufficienza, come optional, mediante una zanzariera chiusa. L'ampia area d'ingresso consente un utilizzo flessibile. Oltre al grande ingresso principale anteriore, è possibile utilizzare anche l'ingresso laterale protetto, più piccolo. I profili di copertura sulla cerniera la proteggono dall'acqua e mantengono asciutta la tenda. Nell'ampia cabina letto, dispone di spazio a sufficienza per un massimo di 4 materassini isolanti e simili. È adatta a gite, viaggi e festival. L'alta vasca di fondo della cabina letto tiene lontani i visitatori indesiderati e offre una protezione affidabile in giornate particolarmente umide. Il prezzo è di 89 euro. Numero 4 Al quarto posto troviamo Ergo Car. Queste tende sono realizzate in tessuto Oxford 210D, che è abbastanza resistente, con rivestimento in vinile, e colla argento per la protezione solare all'interno. Può bloccare facilmente la maggior parte del calore e dei raggi ultravioletti e bloccare la forte luce solare. Il design di ventilazione su tutti i lati della tenda ti consente di sentirti fresco in estate. Basato sul design della tenda a pavimento completamente chiuso, puoi chiudere completamente la tenda durante il campeggio. Può proteggere efficacemente l'interno dall'invasione della pioggia, dandoti tranquillità nella vita all'aria aperta. La rete anti-insetti B3 può anche impedire efficacemente agli insetti di entrare nella tenda. Devi solo sollevare il supporto con il potere di sollevare una bottiglia di acqua minerale e la tenda si aprirà automaticamente in 3 secondi. Allo stesso modo, devi solo usare una leggera forza per premere sulla staffa, può essere chiusa rapidamente. La staffa è realizzata in resistente lega di alluminio, che può resistere a decine di migliaia di volte di utilizzo. Inoltre queste tende delle porte anteriori e posteriori possono essere supportate da staffe in lega di alluminio, che possono estendersi fino a 3 metri quadrati. Offrono varietà di colori per soddisfare le tue preferenze. Il prezzo è di 90 euro. Prima di passare al prodotto numero 3 iscriviti a prezzo e recensioni per non perdere le migliori offerte del web in anteprima. Numero 3 Al terzo posto troviamo Activera. Questa tenda oscurante è progettata con uno strato interno avanzato che blocca il 99% della luce, e i dannosi raggi UV, assicurandovi di non svegliarvi per la troppa luce. Lo strato oscurante della tenda mantiene inoltre fresco l'interno della tenda, mantenendo l'ombra quando esposta al sole e aiutandovi a godere di un sonno riposante e indisturbato. A differenza di altre tende pop-up, questa è di qualità superiore, ed è dotata di cuciture doppie e completamente nastrate e di uno strato esterno antistrappo e impermeabile di alta qualità che vi mantiene asciutti in qualsiasi condizione atmosferica, mentre la parete interna in rete e le prese d'aria aiutano a ridurre la condensa e a tenere lontani gli insetti indesiderati. Viene fornita con una borsa da viaggio molto più grande di quelle di altri marchi, per facilitare l'imballaggio quando si affretta. Con un peso di soli 6 chili, L ha un rapporto peso-dimensioni perfetto per un facile trasporto, ideale per escursioni e viaggi con più di una tappa. Godetevi il comfort e la privacy grazie al portico anteriore e al tetto impermeabile. L'ingresso anteriore con cerniera, separato dalla tenda principale, consente di riporre le scarpe infangate e di ripararsi dalle intemperie quando necessario. Inoltre utilizza un sistema di montaggio avanzato che consente di montare e impacchettare la tenda in pochi minuti, anche quando c'è maltempo. Sono inclusi 8 tiranti eccezionalmente robusti e 14 picchetti che consentono alla tenda di resistere anche ai 20 più forti. Il prezzo qui è di 139 euro. Numero 2. Al secondo posto troviamo Coleman. Questa è una tenda molto confortevole, con una spaziosa zona notte per 4 persone, perfetta per gruppetti o famiglie. Con un peso complessivo di soli 6 chili e una dimensione dell'imballaggio ridotta, è la soluzione ideale per escursioni che necessitano di bagagli leggeri e un rapido montaggio. La costruzione a cupola con pavimento integrato facilita il montaggio e lo smontaggio in pochissimi minuti. Le alette di ventilazione garantiscono un ricambio d'aria fresca costante. Il portico della tenda ha spazio sufficiente per depositare bagagli, attrezzature e calzature. Ovviamente la tenda è impermeabile e offre protezione dal vento e dal cattivo tempo. Il prezzo è di 149 euro. Numero 1 Al primo posto troviamo Campfair. La spaziosa cabina letto di questa tenda con ampio vestibolo è ideale per una vacanza all'aperto all'insegna del relax. Una corretta ventilazione, soprattutto di notte, è essenziale per un sonno riposante e per la nostra salute. Ecco perché la nostra cabina letto ha due grandi ingressi ed è realizzata in tessuto traspirante e zanzariera. Se non volete bagnarvi i piedi, la cosa più importante da cercare nella vostra scelta di tenda è un alto livello di impermeabilizzazione. Con cuciture sigillate e una colonna d'acqua di 3000 mm, questa tenda è in grado di sopportare anche escursioni più lunghe in montagna. Nell'ampio vestibolo c'è abbastanza spazio per la cucina da campeggio e gli accessori da campeggio. Il telo di terra può essere steso per mantenere i vostri beni asciutti e protetti. Il prezzo è di 179 euro. E tu quale comprerai? Faccelo sapere con un commento. Trovi tutti i link ad Amazon sotto al video. Lo staff di prezzo e recensioni ti ringrazia per la visione.